Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, composto dal Presidente Fulvio Scarpino, dal Vicepresidente Mario Mazza e dal Segretario Pasquale Petrolo, nell'ultima seduta alla presenza del Direttore della Struttura Maurizio Priolo, ha approvato il Regolamento per il malfunzionamento e l'adesione all'osservatorio media e minori. La regolamentazione si è resa necessaria per rispondere alle esigenze operative dell'osservatorio e affinché siano disciplinate le nuove attività attribuite al Corecom, affidando al Comitato la funzione di rivestire il ruolo di osservatorio chiamato media e minori. C'è da ricordare infatti che l'osservatorio media e minori è stato istituito con le seguenti finalità. Diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con particolare attenzione ai minori. Promozione e realizzazione di iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione dell'identità digitale in rete. Ricerca sui temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché la promozione di attività di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi. Promozione di iniziative di studio, ricerca e monitoraggio sui temi della disinformazione e dei discorsi d'odio e di educazione alla fruizione dei prodotti audiovisivi, supporto e orientamento cittadini di ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale. L'attività del Corecom Calabria nel corso degli ultimi anni si è evoluta ed articolata in funzioni sempre più complesse, spiega il Presidente Scarpino. Un'evoluzione è determinata sia dal mutamento dell'assetto normativo, sia dall'ampliamento delle materie delegate al Corecom, dall'autorità delle garanzie nelle comunicazioni, come da convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzione ai comitati regionali per le comunicazioni.